Il sindaco di Grottaglia Raffaele Bagnardi all'inaugurazione del teatro all'aperto delle cave di Fantiano. Domenica di Ferragosso, ma la gente non è mancata, quasi 4 mila persone presenti, entusiaste, quindi possiamo dire sicuramente una scommessa vinta quella di Fantiano. Normalmente è sempre il pubblico che dà i giudizi e data la numerosità delle persone, il calore con cui lo spettacolo è stato accolto, credo che il giudizio sia assolutamente positivo. Vuol dire che non solo ha funzionato lo spettacolo di questa sera, ma ha funzionato anche la formula, cioè un parco naturale in cui si fa cultura. La formula natura-cultura è una formula molto delicata, in grande equilibrio, ma è senz'altro la formula sulla quale noi dobbiamo scommettere e proseguire. Una formula che permette anche alla cittadinanza e alla stimola a conoscere meglio i beni architettonici e naturali che ha magari vicino e che però passano in sott'occhio tante volte? Senza dubbio, la gente ha bisogno di essere guidata. Il parco è una guida che introduce appunto a percorsi che sono naturali della nostra terra, del nostro territorio, ma insieme mette anche la cultura. La cultura che deve essere cultura non solo nostra, ma deve essere un luogo aperto anche ad un confronto culturale più ampio, nazionale e io direi e ospigherei anche internazionale. Grazie mille e arrivederci. Grazie mille e arrivederci. Grazie mille e arrivederci. Con Ambrogio Sparagna, maestro concertatore ormai pugliesi di adozione che ha inaugurato il teatro all'aperto di Fantiano. Un suo giudizio su questa struttura? Beh, sicuramente è una struttura suggestiva che può crescere e diventare un punto di riferimento per le stagioni del teatro, dell'ospettacolo, della musica. È un luogo pieno di fascina, di storia, che è espressione della grande tradizione del lavoro, che luoghi così densi di storia sociale possano trovare l'infa per generare momenti di spettacolo, di comunione con le persone. come è successo stasera, che lo sia una cosa molto importante e fa sicuramente lode a chi ha pensato questo tipo di struttura che certamente potrà sicuramente essere migliorata perché come si dice è in una fase ancora... È un work in progress come si vuol dire. Assessore ai lavori pubblici del comune di Grottagli, Ottavio Orlando, in mezzo a tante opere pubbliche mai terminate o con tempi lunghissimi, quella delle cave di Fantiano è stata una scommessa vinta in pieno? È stata una scommessa vinta in pieno e vinta in tempi record. Se pensiamo che noi il 24 maggio dell'anno studio 2007 abbiamo presentato nel castello il progetto, siamo al 17 agosto nella sua inaugurazione e consagrazione come teatro, io mi auguro che sia in teatro e abbia uno scopo di prezzo nazionale per quanto riguarda il suo utilizzo. In Grottagli abbiamo 11 cantieri che hanno la fortuna di iniziarle e finirle le opere pubbliche, quindi questo è un vanto che fa parte della buona amministrazione. Lavorare bene, produrre bene, i risultati si vedono, i cittadini non sono mancati, presenti, entusiasti, quindi una risposta a chi in qualche modo discuteva la scelta di Fantiano come un teatro all'aperto? Io credo che la città di Grottagli sia molto legata alle cave di Fantiano, sia per quanto riguarda la sua storia produttiva, se pensiamo che il Grottagli è sorto da questi tutti, sia per quanto riguarda l'utilizzo che ne abbiamo fatto a partire degli anni 90, quindi la scelta era vincente già in partenza. Quasi obbligata, diciamo così. Quasi obbligata, hai ragione a dire quasi obbligata anche perché questo è uno scenario unico, io credo a livello regionale ce ne sono pochi di questi teatri che possono offrire un'ospitalità del genere e una visione insieme tra natura e cultura che è un connubio che sarà vincente negli anni prossimi. Senza dimenticare che poi questo diventerà pure un parco fruibile perché siamo solo diciamo al primo step del progetto parco di Fantiano, noi il parco di Fantiano lo infileremo in tutti i progetti possibili per quanto riguarda i finanziamenti comunitari. Bisogna rimarcare che il teatro è stato realizzato con finanziamenti comunitari e quindi la capacità attrattiva di recuperare anche i soldi attraverso la buona progettazione, la tempistica, anche fonti che non gravi, non si può. Bene, allora appuntamento alla prossima sorpresa che ci riserverà il cave, il teatro e il parco di Fantiano. Siamo con l'assessore Marisa Patrù, un assessore alla cultura del comune di Grottaglie. Questa sera possiamo dire una ciliegina sulla torta della programmazione estiva del comune di Grottaglie. Sì, l'appuntamento tanto atteso, abbiamo sognato già l'anno scorso realizzando la decima edizione di Musica Mundi e che quest'anno abbiamo riacchiappato, riappropriandoci appunto di questo luogo magico e restituendolo alla città e realizzando l'undicesima edizione di Musica Mundi e questa sera ha visto la nostra mediterraneità al massimo delle sue espressioni. Ecco, qualcuno potrebbe dire che tutta questa gente è stata spinta dalla curiosità, qualche altro dall'ingresso gratuito, in realtà possiamo anche dire che è il risultato di una programmazione mai banale e sempre intrigante? Sicuramente non abbiamo trascurato nessun aspetto nella divulgazione di questo evento che sicuramente ha attirato le persone per la curiosità, ma era ciò che poi volevamo, perché volevamo ripuntare i riflettori su questo luogo che magicamente era stato restituito alla nostra città, ai nostri concittadini e a tutta la terra ionica. Quindi ben venga la curiosità, ma dietro c'è stato uno studio molto attento, una promozione molto attenta della serata e dell'iniziatore. È stata una piacevole sorpresa anche per lei, immagino, vedere tanti grottagliesi e non solo grottagliesi presenti ed entusiasti, una soddisfazione che ripaga di tante fatiche. Io sono stata felicissima di avere tanta gente questa sera, però ero certa che la gente sarebbe venuta, perché la gente ama chi lavora per lei. Bene, facciamo i complimenti all'assessore alla cultura del Comune di Grottaglie che ha allestito veramente un cartellone degno di nota. Chavanec, coreografo di questo spettacolo che ha inaugurato il Teatro all'Aperto di Fantiano, un suo giudizio su questa struttura? È una struttura ovviamente bellissima, molto fascinante, che per il mondo del teatro, grandi spettacolo sarebbe molto giusta. Bisogna evidentemente creare i presupposti, ma io penso che la musica, l'opera lirica o grandi valetti possono essere un luogo perfetto. evidentemente sarebbe un peccato di invitare delle compagnie, delle strutture tipo ringhe, eccetera, eccetera, che distruggerebbe la visione del luogo che tutto sommato così crea... è una suggestione in più. In più, non in più, è una suggestione di questo luogo. Quindi mi sembra che comunque è bellissimo, ma è anche molto, come dire, un luogo dove bisogna riflettere appunto su... Su cosa fare e come fare, diciamo. Su cosa fare e come fare. Come nasce l'idea di affrontare... Grazie. Grazie.